Musica Le mareggiate si abbattono sulla costa tirrenica, numerose da nord a sud della regione le aree colpite e chiusi, lungo mare di Fuscaldo, Cetraro e Amantea, frane e smoltamenti in provincia di Cosenza, mentre in Sila arriva la neve. Strage di Montauro, confermato lo scontro frontale. I rilievi confermano la dinamica del sinistro costato la vita a quattro persone, ancora da accertare diversi aspetti, come quello di un possibile sorpasso di una delle due auto coinvolte. Si valuta l'autopsia sul corpo delle vittime. Pronti a dare battaglia. Forza Italia sigla la mozione di sfiducia a Falcomatà in una conferenza stampa. Il coordinatore regionale del partito, Francesco Cannizzaro, boccia le decisioni del sindaco di Reggio. Disponibilità zero a fare da stampella. Siamo pronti a governare la città. 23% di iscritti in più. L'Unical e l'Ateneo in maggiore crescita nel quadriennio al sud. Risultato ancora più rilevante perché il sistema universitario statale italiano è fermo allo zero. Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Tg dell'altro Corriere e TV. In apertura il maltempo che ha investito negli ultimi giorni la nostra regione causando non pochi problemi, soprattutto lungo la fascia tirrenica, dove importanti mareggiate hanno causato seri danni. Frane e smottamenti anche nell'entroterra, mentre in Sila arriva la neve. Vediamo. Oggi 7 gennaio, come potete vedere, dopo il mio video denuncia dei lavori mancati a novembre 2022, oggi ci troviamo in queste condizioni, con 40-50 metri di battiglia mangiata dall'erosione costiera. Con questa amara riflessione postata sul profilo Facebook, insieme a un video più che mai eloquente della mareggiata che ha colpito il tirreno calabrese e in special modo il suo locale, il ristoratore Palmerino Crialesi denuncia quanto sta accadendo sul territorio di Falerna. Una situazione ampiamente prevedibile che si ripete di anno in anno e che le amministrazioni comunali non riescono a fronteggiare con interventi preventivi di manutenzione. Tutto ciò provoca conseguenti ripercussioni sulle attività commerciali presenti a pochi metri dal mare. Il maltempo che sta colpendo in queste ore la regione ha provocato forti eventi di burrasca e mareggiate sulle coste tirreniche da sud a nord. La protezione civile ha dinamato su tutto il territorio regionale l'allerta gialla. Diversi centri del Regino, del Catanzarese e del Cosentino colpiti da numerosi danni causati dal mare grosso e con numerosi interventi di soccorso dei vigili del fuoco. Registrati i disservizi ad alcuni impianti idrici, a Foscaldo, a Mantea e a Cetraro, sono stati chiusi il lungomare e le strade messe a rischio dalle mareggiate. Ma il maltempo non ha colpito soltanto le coste tirreniche. Uomini e mezzi del settore e viabilità della provincia di Cosenza sono intervenuti sulle arterie provinciali interrotte per le avverse condizioni atmosferiche. Dall'Attarico a Cerisano a Grimaldi non sono mancati frane e smottamenti. In Sila i mezzi spalaneve sono all'opera per garantire la sicurezza aviaria delle strade innevate sin dalle prime ore dell'alba di domenica. I rilievi effettuati confermano lo scontro frontale fra le due auto rimaste coinvolte nell'incidente che sabato sulla 106 a Montauro è costato la vita a benne a quattro persone. Ancora da valutare però altri dettagli del sinistro. Ricostruiamo allora quanto è accaduto nel servizio. Non ci sono dubbi, si è trattato di uno scontro frontale, quello che ha coinvolto due auto nell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato lungo la statale 106 Ionica nel territorio del comune di Montauro che ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di una quinta. Secondo quanto emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Soverato, la vettura, una Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime, Domenico e Antonella Romeo, Teresa Giorgi ed Elisa Pelle, stava procedendo in direzione sud mentre l'altra auto coinvolta nello scontro, una Fiat Idea, viaggiava verso nord. Il dato che ne consegue è che le quattro persone che sono decedute stessero facendo rientro a San Luca, il centro del Regino dove risiedono, dopo un colloquio nel carcere di Catanzaro con un loro congiunto. Occorrerà anche stabilire se una delle auto stesse effettuando nel momento dell'incidente un sorpasso con conseguente invasione della corsia opposta e nel caso quale delle due vetture. I corpi delle vittime intanto si trovano nella sala mortuaria del Policlinico di Catanzaro in attesa delle decisioni del magistrato che coordina le attività investigative, il sostituto procuratore della Repubblica Stefania Caldarelli che deve stabilire in primo luogo se debbano essere sottoposti ad autopsia. Soltanto dopo il magistrato deciderà quando restituire le salme ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali. Si è in attesa dell'esito dell'alcol test a cui è stato sottoposto il 52enne rimasto ferito nel terribile scontro. E quindi la politica con la presa di posizione di Forza Italia che sfiducia il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà all'indomani della presentazione della nuova giunta comunale. In una conferenza stampa indetta dalla coordinatore regionale azzurro Francesco Cannizzaro il partito si è detto pronto a governare la città. Un film dell'orrore che si conclude nel peggiore dei modi poi lo definisce un film comico. Francesco Cannizzaro etichetta così la presentazione del nuovo esecutivo reggino, quella che definisce semigiunta messa insieme dal sindaco Giuseppe Falcomatà. L'annuncio e la presentazione alla stampa della nuova giunta di Reggio Calabria mancante di tre assessori ha creato un vero e proprio caso politico e non è andata giù né alla maggioranza di centrosinistra né tantomeno all'opposizione di centrodestra. Nel corso di una conferenza stampa presso la sede del coordinamento azzurro Cannizzaro i consiglieri del gruppo consigliario di Forza Italia al comune di Reggio Calabria Federico Milì Antonino Maiolino e Roberto Vizzari hanno ribadito la propria contrarietà alle scelte attuate dal primo cittadino sottolineando che Forza Italia non sarà mai e per nessun motivo disponibile ad essere stampella di nessuno. Gli esponenti azzurri hanno quindi preparato e stiglato una mozione di sfiducia verso Falcomatà. Siamo pronti per governare questa città, ha detto Cannizzaro. Noi bocciamo totalmente le scelte di Giuseppe Falcomatà ma consentitevi bocciamo totalmente anche l'atteggiamento, l'approccio di un'intera coalizione di centrosinistra che non è riuscita a fare sintesi nel momento in cui il sindaco che è stato sostenuto è stato assolto e doveva essere rilanciato in questo anno e mezzo a dare un momento di vitalità all'attività politica e amministrativa ferma al palo da dieci anni ma sicuramente negli ultimi anni ancora a Reggio. Portando oggi la città di Reggio ad essere una delle città peggiori d'Italia sotto il profilo della qualità della vita, tutti gli indicatori sociali, culturali e economici la danno tra le ultime e peggiori città d'Italia, quando invece questa città negli anni ha avuto momenti dove comunque addirittura era sul podio delle città d'Italia per la buona prassi, per la buona amministrazione, per l'appetibilità diciamo turistica, sociale e culturale. Sul fronte politico c'è però da registrare la soddisfazione dell'assessore regionale Gianluca Gallo in merito alla stabilizzazione dei 304 precari dell'azienda Calabria Verde. La fine di una lunga fase di precariato in Calabria dopo 15 anni, il verdetto tanto atteso per i soggetti lavoratori della legge 15 del 2008, il ridimensionamento del bacino dei precari è frutto di un'azione sinergica che vede tra i protagonisti l'assessore Gianluca Gallo e i dipartimenti lavoro e welfare e agricoltura. Questo quanto emerge a seguito dell'avviso di stabilizzazione con contratto stagionale dell'azienda Calabria Verde a cui hanno aderito 304 unità lavorative. A loro verrà applicato il contratto collettivo nazionale per attività di cantieristica forestale, lotta agli incendi boschivi, contrasto idrogeologico. Era una richiesta dei sindacati che voglio ringraziare per aver condotto insieme a noi questo percorso che dà una speranza a ben 304 lavoratori che finora erano lavoratori precari di Nero e che invece oggi cominciano ad avere dei contributi previdenziali, hanno una stabilità di lavoro, hanno la possibilità di incrementare anche nei prossimi anni il loro impegno all'interno dell'azienda Calabria Verde e quindi hanno tutto un percorso sicuramente migliore davanti al loro orizzonte. E a proposito di Regione, domani martedì 9 gennaio alle ore 11 nella Sala Verde della Cittadella Regionale di Catanzaro la vicepresidente della Giunta Regionale Giussi Princi con delega all'istruzione all'università e la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale Antonella Iunti terranno una conferenza stampa nel corso della quale sarà presentata la sperimentazione nazionale della riforma quadriennale degli istituti tecnici e professionali. La Calabria è tra le prime regioni in Italia a dare un contributo per una più efficace declinazione formativa ed organizzativa della sperimentazione. All'incontro con la stampa interverrà Carmela Palumbo, capodipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione che spiegherà la riforma nel dettaglio dei contenuti e delle finalità. Le conclusioni saranno quindi affidate al Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Di scuola e di studi continuiamo a parlare in particolare di università. L'Università della Calabria è infatti l'Ateneo in maggiore crescita nella quadriennio al sud con un più 23% di iscritti. Risultato che è ancora più rilevante se si considera che il sistema universitario statale italiano è fermo allo zero. Nuovo primato per l'Università della Calabria che risulta il primo grande Ateneo statale in quanto a crescita di matricolati al sud. Segnando oggi un più 23% rispetto al periodo pre-pandemico anno 2019-2020 e tra le sole tre università d'Italia a vantare un aumento in ciascun anno del quadriennio nel numero di studenti nuovi iscritti. Il risultato appare ancora più rilevante nel confronto con il sistema universitario statale italiano che nello stesso periodo risulta a crescita zero per cui l'aumento unica è di ben 23 punti percentuali al di sopra della media nazionale. Dall'analisi dei dati dell'anagrafe nazionale studenti resi recentemente disponibili dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulle nuove iscrizioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico emerge che il sistema universitario statale che contava 275.812 in matricolazioni nel 2019-2020 ha avuto una forte crescita più 5,2% dopo l'inizio della pandemia a cui è seguito però un rimbalzo negativo con due anni consecutivi di perdita degli iscritti e una lieve ripresa quest'anno più 1,9% che ha riportato i livelli pre-pandemia con 275.768 immatricolati nel 2023-2024 appena 44 studenti in meno rispetto al 2019-2020. L'Università della Calabria invece ha segnato un significativo aumento nel quadriennio passando da 3.834 immatricolati nel 2019-2020 a 4.704 del 2023-2024 con una crescita percentuale del 23% contro la media nazionale pari allo zero. L'Unical registra quindi dall'anno pre-pandemia a quella attuale la crescita più alta in assoluto tra tutte le grandi università statali del sud inclusi i mega atenei e registra uno dei più alti tassi di sviluppo tra tutte le università d'Italia. Infine lo sport con la vittoria netta per 3-0 della Crotone all'uscida contro il Catania nella prima giornata di ritorno in Serie C partenza ottima per gli squali nel 2024 come sottolinea il tecnico rosso-blu. Lamberto Zauli lo ascoltiamo. Ci godiamo questa bellissima vittoria insomma come c'eravamo detti in conferenza prima dopo la pausa non sai mai come la squadra ritorna mentalmente fisicamente non penso che ci fossero stati problemi perché la pausa comunque è stata di sette giorni quindi non... però c'è stata una mentalità importante insomma nel primo quarto d'ora la partita è stata blanda in generale poi piano piano si è trovato le distanze si è sofferto poco secondo me la squadra ha fatto tre bellissimi gol abbiamo rischiato di farne qualcuno anche nel primo tempo di più e quindi ci godiamo una vittoria importantissima però campionato ce lo diciamo difficilissimo stiamo entrando nel vivo e adesso mancano 18 partite tutte le volte lo diremo la classifica conta il giusto ma noi faremo di tutto per stare tra quelle che contano e la partita di oggi mi auguro che spinga i ragazzi a crederci perché questa è la cosa più importante oltre ai tre punti e quindi mi auguro che questo spinga tutti a dare il meglio di noi perché insomma stare tra le prime ci rende orgogliosi. E noi per il momento ci fermiamo qua io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni della TG dell'altro Corriere TV Buon proseguimento Buon proseguimento Buon proseguimento